È stata una partita preparata molto bene dal coach, siamo stati bravi anche noi che abbiamo saputo andare alla partita contro Bergamo sapendo che era una squadra che punta in alto con della faccia tosta e con le palle, non so se si può dire. Ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo giocato bene di squadra, siamo riusciti a staccarli all'inizio partita e a mantenere il vantaggio, verso fine partita sono rifatti sotto ma siamo riusciti comunque con della difesa aggressiva e in attacco cercando di ragionare un po' di più a mantenere il distacco e alla fine siamo riusciti a vincere.